Per me è che in realtà le cose nascono un po' così, perché se voi ricordate, qualcuno di voi ricorderà senz'altro che l'anno scorso c'è stato qui, in questa cappella, l'esposizione delle eliquie provenienti dalla Cascia, belle di Santa Rita. Quest'anno noi ci ritroviamo con questo duplice appuntamento di sera alla presentazione del libro, stasera per trattare il tema di Santa Rita. Questo significa quasi che sarebbe molto bello che potessi diventare anche una tradizione, cioè solennizzare qui la festa di Santa Rita. Noi ci soffermiamo un po' a parlare di questa santa, io ho scelto questo libro di un autore francese, di quale parla, dove si chiama Leon Cristiani, italo-francese e pare che lui ha detto che lui sia della Cossica, questo scrittore. E ci troviamo qui per personalizzare la festa di Santa Rita e noi ci dobbiamo chiedere innanzitutto perché poi Santa Rita è una santa che ci è così cara. L'aspirazione è molto logica, molto semplice, in realtà Santa Rita è una santa che ha vissuto una vita lungo e intensa e che potrebbe anche essere un più vite messi assieme. Ecco, perché lei, Santa Rita è stata una santa che ha avuto diverse fasi, ha vissuto sia la parte della sposa, della madre, poi ha vissuto il periodo della ridolanza, del periodo della ridolanza, sia poi così, che ha avuto diverse fasi, per passare per tanti successivi ad una sacrificazione sempre crescente, fino ad avere anche lei il seguito di nostro signore nella stigmatizzazione.